Ben tornati telespettatori di Pianeta Ciclismo, anche questa settimana spazio dedicato ai più piccini categoria giovanissimi che domenica 21 giugno si sono ritrovati a Sabbio Chiese per il terzo trofeo comune di Sabbio Chiese, secondo Memorial Silvio Mattei. Organizzazione affidata al team Nuvolento che anche quest'anno ha messo insieme una grande manifestazione, grazie soprattutto alla collaborazione delle famiglie Mattei e Frosi e poi a tutti i genitori volontari che sostengono da tempo questo team. Ovviamente a partire sono i più piccini categoria G1 che sta pedalando a tutta su questo circuito leggermente ondulato che sta mettendo già a dura prova le loro capacità fisiche. E sotto lo striscino d'arrivo a trionfare Fagoni Daniel della Mazzano che precede Matteo Mori e Nicola Sreccagni. Ecco la classifica, al quinto posto Davide Piovanelli della Springedi, quarto Giulio Franceschini della Ronco, terzo il suo compagno di squadra Nicola Sreccagni, secondo Matteo Mori della Springedi e vincitore Daniel Fagoni della Mazzano. Tra le bimbe il terzo posto va a Margherita Putelli della Castelmella, seconda Martina Benvenuti della Mazzano e vincitrice Alessia Baratta della Progetto Ciclismo Rodengo Sayano.